Colori vivaci e disegni dinamici che raccontano passioni e disagi, quotidianità e temi sociali. Tra sfumature cromatiche, pennellate sempre verdi, è stata inaugurata al Circolo Sanitico di Campobasso la personale I colori dell'anima, mostra di pittura dell'artista molisano Piero Perrino. Io creo e creare non è sempre, perché ogni segno, ogni mio segno rispecchia un mio momento di vita. I miei dipinti hanno la forza nel colore e non hanno né inizio né fine. Più di 20 opere esposte dove i colori non si ripetono mai, esprimendo gioia di vivere e una continua ricerca di rinnovamento. Istinto e passione sono le sensazioni che Perrino prova quando si trova davanti ad una tela e che lo ispirano nella realizzazione delle sue opere. Quando creo, se le vede, io c'è tutto sporco qua, perché non ho neanche il tempo di poter mettere qualche cosa addosso, perché è così forte che io incamero bene e male e poi ho bisogno di esternare, di partorire. E quindi tutti i colori vengono fuori così istintivamente e quando finisco sono tutto e poi niente. Con tratti profondi, netti e rapidi, le opere astratte di Piero Perrino rimarranno esposte fino al 31 ottobre.